salve ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di rast qui accanto a me c'è mio fratello liceo balla bella tutti amici allora ragazzi per prima cosa quello che potrei c'è una casa si perché cosa quello che vorrei fare quando mi sembra un po' vediamo se un maiale o se qualche animale che ci attaccherà si scusa liceo un cervo mi sembra mi sembra una no 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 ragazzi questa questa zona mi sembra buona quindi prima proprio costruirò la mia casina sembra pure abitata no non sembra proprio abitata e si da più episodio diciamo siamo morti e la cosa non c'è da un pochettino al genio quindi molto probabilmente rimarro in questa zona in cui giustamente mi andrò a trattare e vediamo qualche cosa c'è in questa casa non lo stesso è questa casa è abitata o disabitata se troveremo qualche zombie e disabitata guarda se ci sono i nostri morali di sopra non si può salire eh ragazzi di sicuro che erano materiale vorrei andare per prima cosa subito a caccia eeeh ragazzi spero che questo è quello l'episodio precedente vi sia piaciuto ora che resterò qui perchè allora dovrei fare intanto un'accetta un arco e delle frecce quindi vediamo si per rincominciare a magari magari adammarci e giustamente a uccidere eeeh degli animali va per ora vediamo un po' di cibo eh e vediamo vediamo quello che ci richiede il gioco tanto scassiamo il meglio ecco non fuso piccolo maglio eeeh cosa è succederà un gioco molto pesante ma via quanti materiali si eeeh ci sono ci sono anche alba intanto voglio vedere se posso fare armo allora mi serve la pelle per l'arco accetto dove è l'arco e' l'arco e' l'arco sali qua un tiggo un po' un po' che cos'è legno e' l'arco la pelle torna a prendo la pelle dai maiali e' sì ma camagliano in cibo non mi sorprei allontanare da questa zona quello sembri ragazzi finalmente abbiamo trovato un posto diciamo e' abitabile e' ah il gioco comunque è il e' ancora in alfa e' se volete comprarlo e' allora e' io questo gioco l'ho acquistato da un mio amico e' ci sono troppe cose l'ho acquistato da un mio amico ora vi lascio pure questo mio amico si chiama Gigino e lo troverete su TS quindi vi lascerò il link nella descrizione se magari voi volete acquistare il gioco lo potete acquistare tranquillamente da lui e una cosa forse qualche sconto dipende una cosa che vi vorrei dire che su Steam questo gioco posta la bellezza di 18 euro io l'ho acquistato da lui ben ben 16 euro quindi notate la differenza che è enorme diciamo enorme enorme perché va lui a quanto pare vende giochi appunto online giustamente a metà del prezzo ragazzi è un grande amico quindi poi le spiegazioni magari se ne volete chiedete pure quindi lo ringrazio veramente di cuore che ho acquistato il gioco da lui e sono comunque soddisfatto della dell'acquisto che ho fatto quello sembra un baiale un baiale un bambice il cervo il cervo scappa lol il cervo che sta fermo ah ecco mi sembrava strano bambi bambi chi è qui muori si abbiamo ucciso il nostro primo animale due due pelli a due due pelli ora comunque qua ci darà pure di stecchie di pollo non lo so ci darò la giustamente sta compenuto qua quindi faremo il nostro fuoco da campo quindi vediamo se lo posso uccidere pure questo questo un pochettino infida vieni qui e ti uccido tanto sai di essere morto ok se andate in castrale bella 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 dai non lo so se è un problema magari di gioco o di non lo so i cervi solitamente sono infidi va bene comunque ragazzi finalmente siamo riusciti a trovare del cibo una zona molto abitabile ragazzi ci hanno dato pure il benvenuto nei commenti grazie si specialmente se voi magari avete maiale ragazzi finalmente ho trovato una zona ben abitabile in cui posso uccidere a non scappare non scappare dai e muori lurido bestia oh ancora vivo è o ci sono o di solito in quei bidoni si trova sempre qualcosa dietro ora ci andiamo a visitarlo finalmente abbiamo del cibo basta seguire la strada al contrario questa nera tanto ci prendiamo del cibo scusate per l'immagine fluente ma noi non siamo contro allora questo di qua siamo pacifisti noi siamo pacifisti ma purtroppo il gioco ci richiede di uccidere per la sopravvivenza alleluia finalmente ho trovato un posto diciamo ben abitabili abitabile 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 per Roma caccia e lo sopravvivenza finalmente nello scorso siamo morti cerchiamo adesso di una volta c almeno tre episodi da vivo si spera edo ari o che è difficile e allora intanto ci devo portare lascia lascia trattiamo come vedete abbiamo letti allora io come sono a scegliere quella per costruire la mia prima bara tanto abbiamo il materiale apposto ci ha finito di trattare e questo è qua un altro legno per cercare poco per l'acqua cc 6 ma caldo che più a posto dopo la capo sempre lo metto a poste le cose se io faccio la barca baracca come gioco è un gioco lento purtroppo lo chiamo ecco negli inizi di minecraft l però dopo che magari tappi cosa e c'è più sopravvivenza più gioco magari per andare un po' più in giro con le armi ti puoi riparare un po'